Unità d'Italia, ma non così come è stata creata, l'Unità d'Italia anche noi, anzi pare che è più il Sud che ci tiene all'Unità d'Italia che il Nord, chiariamo questo concetto, solo che così come è stata creata non è affatto l'Unità d'Italia, questo è stato soltanto un'aggressione, un'invasione, una colonizzazione del Sud.